Oggi è uscito Piccolo Sole di Edoardo D'Anna Maria in arte droiette. Il singolo è aspettato da numerosissimi fan del ragazzo che sin da piccolo ha avuto sempre la passione per la musica. Lui dice che fino al 2021 non ha pubblicato niente perché è stato sempre un ragazzo ansioso e faceva fatica a buttare fuori i suoi sentimenti sia con le ragazze che con i suoi amici. Ma poi è andato al Grande Fratello, Vip, e ha pubblicato il suo primo singolo, Il Cielo Stanotte, e ha avuto un grande successo. E allora perché non farli ascoltare tutti dal momento che ha tanti pezzi pronto lo sole un messaggio d'amore di due persone che si amano e vogliono stare insieme, ma sono distanti. E allora che fare? Ci riproverò!